Protestano i residenti di Via Cipro a Canicattì che, con il caldo torrido di questi giorni, mettono maggiormente in evidenza il loro disagio e la loro disapprovazione per la situazione che vige ormai da parecchio tempo in questa zona. Allarme epidemie dunque, questo è ciò che i cittadini canicattinesi urlano a gran voce, a causa della situazione igienico-sanitaria del posto. La città dell'Uva Italia è umiliata, dicono i residenti di Via Cipro, per il modo in cui viene pulita e per la quale attenzione viene riservata alla sua igiene. Cassonetti sporchi, privi di coperchio, nessuna manutenzione e pulizia, le incrostazioni di sporcizia superano ampiamente il centimetro. Emergenza igiene per i cani che tirano fuori i sacchetti e li spargono per l'asfalto. Cani morti ed Ethernet, gomme e ogni sorta di rifiuto. I tombini sono eternamente otturati di detriti. Gli abitanti di Via Cipro chiedono dunque al sindaco Vincenzo Corbo che qualcosa venga fatta al più presto per ripristinare la situazione igienica che attualmente risulta essere molto precaria in quella zona.